signori è con noi grandissimo piacere abbiamo francesco motta ciao non ti si sente è mutato caster mutato non è mutato è mutato lui no adesso poi dicevo perché era mutato salve a tutti ciao 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 piacere di conoscerti tanto ci siamo scambiati un bel po di messaggi in realtà via twitter però vedersi è sempre un'altra un'altra cosa allora intanto raccontaci un po di te tu mi hai detto in privato che ti occupi un po insomma collabori con gli sps anche lato appunto di casting insomma esattamente esattamente diciamo che sps ha intrapreso questa strada già da tipo agosto settembre quel periodo lì e di un progetto di streaming cioè di iniziare a stremmare abbiamo iniziato con stream co stream mando le tappe tormenta e da lì ha preso me e altri ragazzi sia regia e caster e ci ha messo a commentare i game per poi piano piano sono a commentare sempre di più finché è diventata una cosa abbastanza diciamo di routine adesso cioè stremmiamo regolarmente le varie partite sì ho visto qualche cast è casato insieme un ragazzo con una specie di alpaca come immagine profilo o un lama sono io l'alpaca ah ok 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 sono proprio io sono proprio io esatto e infatti il nome d'arte alpaca scettrice anche perché sei un fan di daft o non c'entra niente daft e no in realtà l'ho scelto quando avevo 12 anni questo non è perciò il motto che tiene a vita tra l'altro sei quasi identico a voi voi non sono ricordate vero identico ragazzi fa impressione dunque ecco molto simile senti che che tipo di poi ovviamente avremo anche uno dei team manager degli sps si potrà raccontare meglio sicuramente quello che succede all'interno degli sps e del team di league of legends ma in generale com'è questa realtà degli sps come ti stai trovando tu come come si trovano anche loro insomma che cosa ci puoi dire degli sps allora di quello che vedo io e di chi vivo io comunque è una realtà attiva cioè molto come dire energica perché giustamente sps anzi adesso è primo in classifica ed ha imbattuto l'examore no no però sì è di una realtà che non si sia non insomma non si ha sentito parlare prima di tutto prima di alla btl e diciamo che questo percorso un po l'ho visto crescere perché siamo partiti dai vari tormenta open sono andati anche alla land della milan games week l'hanno raggiunta anche se hanno perso contro jellas verona che poi è il torneo esatto e perciò è stato come dire è un qualcosa che comunque è nato da una community di un server discord che io ho visto crescere sempre di più e la vedo ancora crescere e poi commentando anche le partite degli sps parlando cioè proprio come team a me piace come squadra perché è una squadra divertente da vedere e da commentare soprattutto porca miseria è vischio di ci sia infatti anche voi a commentarla rischio artisti fanno le draft sono di un'artisticità incredibile non si sa mai che cosa puoi aspettarti puoi bannare sei picche nel frattempo loro te ne tireranno fuori altri sei che funzionano allo stesso modo let me introduce you è il nuovo pic una cosa incredibile almeno di quello da quello che abbiamo visto non si vede spesso un team in regular season mostrare così tante carte ma forse ne hanno così tante loro nel loro mazzo che non hanno paura di mostrarle tutte perché sono sono cucina stellata esatto chi è lo chef chi è lo chef come si chiama il coach è il tric e tric e tric e certo scusami certo non avevo visto chi era il coach sinceramente del team però trick lo conosco da un bel po si conosce come no certo è sempre stato famoso tra l'altro per trovare sempre qualche pic interessante e quindi come trova che ha detto rischio ho capito trovare quello può anche essere non lo sappiamo ancora però 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 senti ma è il video gemmo no 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 ci mancherebbe ci mancherebbe stavo pensando sì no tu dicevi che comunque è una realtà nata da una community discord sì che cosa quando è nato questo soprattutto allora io dal server discord non so precisamente quando sia nato perché ci sono entrato insomma da quest'estate perché io prima commentavo se sono nato come caster su un altro gioco su rimo sexy lo sapevo io ho fatto commentato il b serious ok insomma perciò ho avuto un'esperienza lì poi mi sono appassionato al league of legends con la gente che era dentro di serious e poi anche perché a certo punto è detto rimo si exige a parte il business non è rimasto niente ecco perché sul cazzo ubisoft ora vota perché è sul cazzo ubisoft ora no no povera ubisoft però assolutamente povera nel vero senso della parola cioè però ecco poi insomma tra un passaparola e l'altro mi si è capito da questa occasione mi hanno detto e vuoi commentare una tappa di tormenta e ho detto guarda prima volta che castle league of legends proviamo e da lì poi mi ha scritto makarov che è anche qui in chat che è l'owner e l'owner il creatore della community è il boss è il boss è il boss il capo della gil mi ha scritto vuoi alpaca e vuoi unirti a sps ho detto sì è a posto dai eccomi qua tra l'altro tra l'altro sps per cosa sta esattamente e spiritu sante santis santus santis qualcosa del genere adesso dice un po di religione tutto un po di sacro si un po di mischiare il sacro il profano tu che hai fatto il classico come si dice seguito e tu santi ecco quasi però mischi sa che il profano perché sei benissimo che quando giochi a league of legends qualcosa parte quindi poi quando lo casti ti caccia internet è successo succede succede cose che succedono cose che succedono ma quindi a questo punto insomma papa francesco immagino che sia un vostro grande sostenitore provabile probabilmente la maglietta di sps in canoni mandate glielo oppure la mandate a quel prete che mi spunta da ormai ultimamente sempre su tiktok con la cavigliera le fisher no no padre fisher per fare un sacco di video su tiktok con tutte le canzioni sanremo sul calcio perché era è un ex dj che poi ha chiamato la chiamata del signore adesso fa il prete però si è stato intervistato pure su rai 1 certo qualche tempo fa tipo l'hanno invitato in qualche trasmissione tipo uno mattina queste cose qua non lo so ciuffo potrebbe essere questo orgoglioso e canto potrebbe essere tra l'altro se non faceva parte di una community unita ad altri ragazzi che castavano diverse tappe di tormenta da cui tra l'altro è scono charlie tavernello che disastro è qui io non c'è io perché la mia storia inizia dopo però il presidente di presidente si è la cura del caos da dove sono usciti charlie tavernello povero tavernello chissà che fine affatto non sappiamo più dov'è che fine affatto che si è preso una pausa c'è la band c'è la band c'è la band suona vabbè la vediamo se sono arrivati ancora non sono entrati poi appena un'altra domanda una per alpa casetti tuo che casti insieme a di solito va insieme a chi allora di solito diciamo i miei compagni di fiducia sono sap x e anche fenicio un cast con cui mi trovo molto bene no no anche sap x e perciò solitamente casto con loro anche se ovviamente poi per necessità si casta con tutti quanti perciò giustamente però solitamente sono quelli in cui più abitualmente casto e commento e anche loro venivano da bisirius e no loro sono tutta gente che ho conosciuto in sps anche loro quindi venivano da altri giochi falliti come rainbow six no no loro sempre da sempre da league player perciò ecco infatti con sap x è stata prima volta commentato è stata insieme a lui grazie mi sono sentito un po più rassicurato perché l'aveva già fatto e allora avevo una spalla su cui poggiarmi e piangere nel caso ci sta ci sta ci sta ultima ultima poi ti capito se ti lascio andare o facciamo simoo no 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 ma ben io devi chiccare perché non c'entriamo siamo in tanti che si sta divertendo vuole rimanere secondo me non voglio costringerlo così tanto lo facciamo ritornare non vi preoccupate e che dieci minuti era una casa così veloce tempo che ci per darti live per dirgli allora deve tornare magari un giorno poi non torna più magari un giorno parliamo di broadcasting casting a ieri e roma grazie bagnino pazzo almeno tu un poco d'amor me lo dai diego l'altra domanda in realtà su come ti trovi in realtà con i due compagni che tipo di casting se avete impostato un tipo di casting su sps essendo un casting che deve essere di parte posso dire di saperne qualcosa quantomeno almeno di casting di parte e allora devo dire la verità che il casting di parte non è una non è stato nella linea guida che c'è stata data noi cerchiamo un casting più oggettivo cioè più classico ovvero dove siamo più imparziali ovviamente quando capito sì sì ovviamente quando c'è la parere dell'sps allora lì ok che teniamo un po ad esultare di più e quant'altro però giustamente commentando poi anche altri game entriamo in modalità seria oggettiva seria e per quanto riguarda l'organizzazione è curioso perché io da rainbow six e già arrivavo come analyst color caster e mi hanno messo a fare play 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 qui perciò ecco solitamente io occupo quel ruolo lì mentre finicio occupa il color caster e con saprix ci alterniamo perché anche lui sarebbe un play 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 ho capito va bene stai anche esplorando c'è un modo anche per per esplorare un altro tipo di per te stesso intendo un altro ruolo ecco mettiamola allora niente prendiamo l'impegno che ritorni sfigurate le bestemmie come ravel non penso non prima di andartene però mi serve una cosa importante mi serve capire dei due ospiti prossimi che avremo chi è chi allora quello con lo sfondo del logo sb e mobili perfetto entro l'altro adesso come sistemare mai allora fate un'ultima domanda no anzi non è vero non potete fare perché se cambio togliamo lui quindi comunque è un casino è un casino allora fa mille al pacco e niente grazie 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 mille maltrattato da del giro